Grazie pubblico, prego Guarda, direi una cosa un po' vigliacca Vigliacca, con la gliacca Sono contenta che deciderà il pubblico perché io sarei in gravissime difficoltà cioè io penso che sia giusto così e il pubblico decreterà tra voi due e credo che comunque voi due avete vinto tutti e due Devo dire che io trovo il modo di cantare di Marco moderno, affascinante secondo me lui è un talento incredibile io lo amo molto, gliel'ho sempre dichiarato sin dal primo giorno un artista che mi eccita nel senso ovviamente buono della parola Grazie a tutti